Siamo qui con Davide Faraone, il deputato regionale del PD e candidato alla poltrona di sindaco di Palermo per le amministrative 2012. Davide Faraone, questa candidatura nasce con molto anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato di Cammarata. Come mai? Io non credo che sia una candidatura che nasca in anticipo. Credo che bisogna togliersi il vizio in politica di immaginare le campagne elettorali come qualcosa che accade l'ultimo mese prima del voto, che si determina soltanto in uno scambio con gli elettori di una assoluta superficialità e non di una costruzione, di un percorso, di idee, di progetti, di programmi che siano condivisi. Perché un mese di campagna elettorale, anche due, non sono sufficienti per costruire percorsi che abbiano la partecipazione come base per poter fare e per poter proporre delle idee utili per la città. Credo che questa mia campagna elettorale debba rappresentare il modello tradizionale di una campagna elettorale moderna che utilizza i mezzi di innovazione tecnologici per avere a che fare con i cittadini e che non li allontana perché li considera quasi il diavolo e che però li utilizza senza eccedere perché considera comunque il rapporto diretto con i cittadini sempre una priorità. Per cui ci vuole tanto tempo per girare ogni strada, ogni quartiere della città, per entrare nei luoghi di lavoro, nei luoghi delle sofferenze, del disagio, per conoscere il disagio, le sofferenze dei cittadini, per capire quelle che sono le prospettive e le potenzialità. Ci vuole tanto tempo, non ci vogliono due mesi di campagna elettorale. Per cui la mia è una campagna elettorale che punta a costruire partecipazione e consenso su una persona che è conosciuta e non una campagna elettorale estemporanea legata al fatto che quattro persone si mettono attorno a un tavolo e scelgono che mi candidano e io poi mi devo fare bello per due mesi e dire sono bello, votatemi. Non è il modello che mi appartiene. Appunto, una candidatura che comunque nasce fuori da una sigla di partito, eppure fa parte di un partito come il Partito Democratico, e il cui 69% degli elettori si è espresso chiaramente, secondo un recente sondaggio di Demopolis, per le primarie, primarie che però non vengono accettate, o almeno non lo sono state fino ad ora in Sicilia dai dirigenti regionali. Ma la cosa paradossale è che tu mi hai parlato di candidatura fuori dal partito, mentre il mio partito in questo momento è nato, si è strutturato in questo Paese, proprio partendo dallo strumento delle primarie come elemento fondativo della partecipazione cittadina, selezione della classe dirigente. Quindi chi si mette fuori dal partito, chi è fuori dal partito, e chi pensa che le primarie invece debbano essere abolite. La mia candidatura è possibile perché ci sono le primarie. Se io dovessi sperare di essere candidato dal mio partito per i meriti acquisiti sul campo, o perché sono per la mia età, per le mie caratteristiche, io me lo sognerei. Io mi immagino, notabile il mio partito, che con la candela incominciano a cercare la persona, il burocrate più adatto a rappresentare questa città. E quando tu lo cerchi con la candela e lo vai a trovare pensando che sia il migliore, io ricordo che si parlava di Billè qualche tempo fa come candidato del PD alla presidenza della regione, di Pippo Baudo, ce ne abbiamo sentite di tutti i colori. Persone come me, della mia generazione, Matteo Renzi a Firenze, non l'avrebbe mai fatto il sindaco se il metodo di selezione delle candidature fosse stato quello tradizionale. Intanto il sindaco più amato è i suoi concittadini. Per cui se la nostra generazione vuole un'opportunità, deve potersi misurare cercando il consenso tra i cittadini e non tra i compagni di partito che a volte hanno una lente deformata nell'individuare ciò che è meglio per la città e per il proprio partito. Io voglio sperimentare attraverso il consenso o meno i cittadini se la mia è una candidatura adatta oppure no. Non lo dicono cinque i miei colleghi deputati se sono il candidato migliore, lo dicono i cittadini con le primarie. Se perderò sosterrò il candidato che vince, se vincerò pretenderò che la coalizione mi sostenga e credo ci siano tutte le possibilità per vincere le prossime elezioni amministrative e finalmente dotare questa città di una classe dirigente finalmente fresca che punti all'innovazione e che sia profondamente democratica, una città che è poco democratica, in cui la mobilità sociale dei cittadini è proprio vicina allo zero. Una città multiproblematica, Palermo. Ma quali sono le priorità, quali sono i punti deboli di un amministratore e che un amministratore si troverà ad affrontare almeno nei primi cento giorni? Qual è il suo programma per Palermo? Io poco fa accennavo alla mobilità sociale. Cioè pensare che un cittadino oggi che nasce povero, nasce figlio di un operaio o nasce in un quartiere periferico che non abbia l'opportunità di potersi affermare perché questa società non gliene dà la possibilità e non perché non ne abbia le capacità, questo è un fatto profondamente antidemocratico. Noi dobbiamo riuscire a creare una città che dia a tutti le stesse opportunità e una città in cui prevalgano le capacità e i meriti e non i rapporti, le relazioni privilegiate con i politici che a volte, anzi, molto spesso hanno assunto il ruolo di sportello unico per la risoluzione dei problemi dei cittadini. Da un certificato anagrafico alla possibilità di essere ricoverato in un ospedale, avere un'assistenza economica. Tutto quello che è certezza, perché è una cosa che ti mette a disposizione, strumenti che ti mettono a disposizione, le istituzioni pubbliche in questa città sono diventate delle cortesie, dei favori. Quindi noi dobbiamo partire intanto dall'assunto che tutti sono uguali davanti alle istituzioni, le istituzioni parlano a tutti allo stesso modo, dopodiché dobbiamo organizzare, riorganizzare assolutamente la macchina burocratico-amministrativa del Comune di Palermo, che è una macchina enorme in quanto al numero di dipendenti, l'80% del bilancio del Comune di Palermo va via per stipendi e dopodiché produce servizi pessimi e fa pagare questi servizi a cifre elevatissime. Pensate che abbiamo nelle tasse sui rifiuti più alti d'Italia, i biglietti e l'autobus più salati d'Italia, tutto questo è inconcepibile, quindi dobbiamo mettere sicuramente a regime la macchina amministrativa di questa città e al tempo stesso dobbiamo realizzare una profonda rivoluzione urbanistica. Cioè noi dobbiamo continuare a puntare sul recupero agevolando il centro storico, non si può più intervenire con quella rigidità con cui si è intervenuto fino a questo momento, perché non è pensabile che un imprenditore che reputa molto più vantaggioso oggi realizzare un edificio su verde agricolo, quindi invadendo verde di questa città, lo reputa molto più vantaggioso che recuperare invece un edificio del centro storico. Noi dobbiamo abbattere i costi del recupero del centro storico per spingere gli imprenditori a intervenire laddove c'è il recupero e c'è il nuovo edilizio. Da noi il problema maggiore si dice il traffico, ma poi c'è anche la mafia. Sì, credo che questo sia un tema su cui bisogna, purtroppo è il tema che rimane contemporaneo, ancora ad oggi, e il dramma vero è che su questo pagano molto anche le organizzazioni democratiche che si sono deperite. Io ricordo che quando i partiti, le associazioni di volontariato, i sindacati erano fortemente radicati nei territori, si conosceva chi era l'uomo d'onore del quartiere. Oggi c'è una condizione in cui, grazie alla forte azione delle forze dell'ordine e della magistratura, c'è stata un'enorme risoluzione sul fatto che i capi sono in galera. Però questo è un fenomeno che si ricrea facilmente, che trova soprattutto laddove c'è il sottoproletariato forza, perché l'idea che la mafia si finanzi oggi col pizzo delle abitazioni, con il pizzo dell'acqua e dell'illuminazione pubblica è possibile quando mancano le istituzioni. Quando all'ozione una struttura sportiva che era gestita abusivamente da un mafioso viene arrestato il mafioso e la struttura non viene subito gestita dall'istituzione pubblica ma abbandonata. Il messaggio che passa in quel quartiere è che col mafioso funzionava con l'istituzione pubblica. No, noi dobbiamo interrompere questi fenomeni che danno la possibilità a questi di avere consenso nei quartieri e dobbiamo ridurre, radere al suolo socialmente, oltre che da un punto di vista giudiziario e da un punto di vista repressivo. E su questo, radere al suolo socialmente, la politica e le istituzioni pubbliche hanno un compito fondamentale. Grazie. Grazie a voi.